«Cosa fai? Chiamo casa, voglio avvertire i miei. Perché? Ma come perché? Siamo isolati dal mondo, possono andare a trovare tua madre, è meglio che mi faccia sentire. Mio padre è morto e tu vuoi sbattermi in faccia che i tuoi stanno benissimo? Vuoi che si mostrino insieme, uniti, di fronte a mia madre che ha appena perso il suo compagno? Complimenti per la delicatezza!» Vidi la signorina davanti a noi deglutire imbarazzata. Scrollai la testa ma non dissi nulla, cercando di convincermi che quella sua reazione fosse completamente normale, vista la situazione. Salì in camera con lui. Fu lì la prima volta. Quella di cui ogni donna potrebbe parlare in eterno, perché anche se il livido passa, la ferita è destinata a rimanere. Lo fece con il bastone dell'ombrellone da spiaggia che avevo scelto proprio io. Sulle gambe e sulla testa, senza spiegazione, senza motivo. Rimasi a terra. Soffocavo le lacrime nell'incredulità. Lo guardavo muoversi per la stanza come se stesse riflettendo su qualcosa di importante, come se non mi avesse appena picchiata. Col suo sguardo su di me, la paura che non fosse finita. Lui in piedi, dominante. Io a terra, in difesa. Grazie a tutti.